L'imponente ricerca internazionale nel campo della medicina induce sempre più spesso la Reale Accademia di Svezia ad attribuire il premio Nobel come un ex aequo. L'Assemblea Nobel al Karolinska Institute ha deciso di assegnare il premio 2019 in fisiologia e medicina a William Kelling, Sir Peter Ratcliffe e Greg Semenza per le loro scoperte su come le cellule percepiscono e si adattano alla disponibilità di ossigeno. Gli americani Kelling e Semenza, il britannico Ratcliffe, hanno scoperto come le cellule avvertono la mancanza d'ossigeno e reagiscono di conseguenza. Si tratta di uno dei meccanismi capitali delle cellule messe alla prova dall'attività fisica, dalle ferite, dagli infarti e dall'ictus.